Dall'altra parte il Napoli con la velocità di Politano che sfida Ammione più veloce, Politano rientra sul sinistro, apre perché c'è tanto spazio per Kvaraschelia, uno contro uno, diventa uno contro due, sterza e calcia! Prima Terracciano, ancora lo scambio, Bonazzoli prova a creare, Nathan mette fuori, poi Raspadori prova a tenere questa palla, Politano in campo aperto per Kvaraschelia tutto solo, può andare in porta, Kvaraschelia in aria Kvaraschelia, sterza e poi chiude in porta! Doppietta al decimo del secondo tempo, è 3-0 Napoli!